Nuovo in studio, allora dottore, un problema nell'urinare abbiamo detto all'inizio magari anche doverlo fare di corsa delle volte, spesso si tratta di ingrossamento della prostata, ma è qualcosa di grave? No, in realtà si tratta di un fenomeno parafisiologico legato all'età, a componenti genetiche e alcuni squilibri ormonali. Si stima che circa il 50% dei cinquantenni e il 90% degli ottantenni abbia un ingrossamento della prostata, ma ciò che conta sono i sintomi, i sintomi che sono caratterizzati da una difficoltà nell'espellere l'urina ed un'urgenza menzionale colpiscono una percentuale variabile tra il 20 e il 40% degli over 60. Ecco, allora quindi non è una cosa grave, è una cosa d'età, diciamo via. Assolutamente. Purtroppo è una cosa triste, però è così. Allora, una volta stabilito attraverso esami diagnostici naturalmente, che si tratta di ingrossamento della prostata, i trattamenti possono essere almeno inizialmente anche farmacologici, giusto? Assolutamente. La terapia farmacologica avverte principalmente su due classi di farmaci, si tratta di alfalitici, sono delle medicine che consentono alla vescica di svuotarsi più liberamente e un'altra categoria di medicine denominata inibitori delle 5 alfa riduttasi, sostanzialmente riducono nell'arco di un periodo variabile tra i 6 e i 12 mesi le dimensioni della ghiandola. Ecco, poi però esiste anche una tecnica nuova a disposizione che è a base di vapore. Di che cosa si tratta? Allora, è una metodica approvata dall'FDA americana nel 2015, introdotta in Italia nel 2019. I primi interventi li abbiamo eseguiti personalmente a Careggi, nel Policlinico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi. Consiste in una metodica ambulatoriale, inseguibile con una blanda sedazione o addirittura con un'anestesia locale. Attraverso uno strumento denominato cistoscopio... Ecco, dovremmo vedere proprio le immagini adesso. Questo strumento ha un agoretrattile in punta, agoretrattile fenestrato. Attraverso queste fenestrature si può diffondere del vaporacolo all'interno della zona centrale della ghiandola, che poi è quella che comprime distorce dure, quindi determina i sintomi, diffonde del vapore. Il vapore nel condensare, quindi nel passaggio di stato da vapore al liquido, cede un'elevata quantità di energia termica. Questo consente in un periodo molto breve, di 9 secondi, di denaturare i tessuti e di conseguenza nell'arco di 1-3 mesi dal trattamento si ottiene un'atrofia e una retrazione di questi tessuti, quindi il canale si riapre e l'urina può defluire liberamente. Sostanzialmente la prostata diventa più piccola, via? Si rimpicciolisce di nuovo, per cui chiaramente non preme più sul canale. Esattamente. Allora, per quali pazienti è indicata? Allora, le linee guida nordamericane la consigliano per pazienti che non hanno prostate estremamente voluminose e in quei pazienti che vogliono preservare le funzioni biologiche della prostata, perché questo è un intervento che consente di preservare le funzioni naturali della ghiandola, e in quei pazienti che vogliono interrompere la terapia farmacologica per gli effetti avversi legati ad essa, o non sono ancora pronti ad un intervento chirurgico definitivo, quindi con un'estesia generale, un ricovero ospedaliero, cosa particolarmente sentita in questa epoca di pandemia da Covid. E certo, questo è un intervento che dura quanto più o meno? Dura 5-10 minuti d'orologio. Quindi pochissimo, insomma, ma è ambulatoriale? Si può eseguire a livello ambulatoriale, il paziente viene dimesso dopo poche ore dalla procedura. Senta, che tipo di risultati si ritengono? Allora, sono stati proprio nel numero di aprile del Journal of Urology pubblicati dati a 5 anni, si parla di un tasso di efficacia del 96%, per cui i pazienti trattati 5 anni fa non hanno avuto la necessità di essere ritrattati nel 96% dei casi e inoltre sono stati misurati anche dei parametri di tipo oggettivo, quindi le riduzioni volumetriche della ghiandola e la forza del getto dell'urina, tutti significativamente migliorati rispetto al preparatorio e dei parametri soggettivi misurati con dei questionari standardizzati e dedicati che... Proprio come benessere, diciamo, in qualche modo. Esatto, certo. Senta, ultima domanda. Nel caso di necessità, lei già ha detto che la maggior parte, diciamo la stragrande maggioranza non deve essere trattata di nuovo, ma nel caso si può rifare questo tipo di intervento? Assolutamente sì, nel caso in cui l'adenoma prostatico ricresca è possibile ripetere la procedura, eseguire una procedura definitiva, quindi una resezione endoscopica o addirittura l'asportazione totale della ghiandola, qualora fosse colpita da un processo onoplastico. Quindi questo può essere uno step, diciamo, nel senso che può essere un gradino, eventualmente se poi non si risolve il problema e si deve intervenire in modo più radicale si può fare comune. Assolutamente. Benissimo, grazie professore. Grazie tante, con questo io vi saluto e vi do appuntamento come sempre con Medicina 33. Arrivederci.